di una possibile guerra civile in America, quindi tutto è possibile, però personalmente io credo che prima o poi in qualche modo verrà soffocato, perché non deve continuare, ci saranno degli accordi probabilmente, quindi lo stesso Trump non potrà fare, non potrà mantenere quello che ha detto durante la sua campagna, però non si può mai sapere, voglio dire, succede di tutto, alle volte si è anche sorpresi, se succedesse sarei molto curiosa di vedere cosa può tenerne fuori, però dubito, dubito molto, e poi devo dire che tutto, lei ha letto il libro, tutto quello che Diana descrive si è incancremito, come si fa a questo punto a sciogliere questo nodo pazzesco di lobby, di interessi, di giornali, di FBI, di CIA, ricordiamoci che quando si mette qualcuno al capo della CIA o delle FBI significa poi averlo dalla propria parte, io vi ricordo fra l'altro per mia conoscenza che nel periodo della guerra in Bosnia e in Jugoslavia c'erano due persone, anzi tre, che erano di origine albanese, Bob Dole, il senatore americano, Al Gore, vicepresidente americano e George Tenet, questi ultimi due erano con sovari, sfortunati, che combinazione, una domanda, una domanda, una domanda, una domanda,